Se tu cerchi miracoli, la morte e l'ordis grazie, la lepra, membri e spiriti di Antonio al nome fuggono, ma recchiate nel cielo no, i sensi e i membri salansi, si trova perché perdessi dai vecchi e dai giovani. Svaniscono i pericoli e cesso le miserie, coloro che li sperimentano, o pago validitano, ma recchiate nel cielo no, i sensi e i membri salansi, si trova perché perdessi dai vecchi e dai giovani. Al Padre me si adorirà, e anche a vivi un figlio, insieme col Santo Spirito, che si granzato irrendono, ma recchiate nel cielo no, i sensi e i membri salansi, si trova perché perdessi dai vecchi e dai giovani. Grazie. 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 Grazie.